Bentornati in questo secondo episodio di Shadow Man, Nintendo 64. Allora, adesso dobbiamo parlare con Jaunty. Queste sono persone molto portate nel limbo, come nella versione PSX. Come avete visto, è diverso da quella Nintendo 64, diversi suoni, diversi texture, diversi oggetti e anche diverse modalità. Adesso, per prima cosa incontriamo Jaunty, che è il guardiano della terra. Eccolo qui. Ciao a tutti, Micheal, come si tratta di te? Jaunty, ringrazio a me come Shadow Man. Micheal Llewa ha nessun place qui in Deadside. Cosa, Micheal, è buona direzione. Si sembrava, è semplice, in te la sette le ozze e il tuo sottotitolo. Il sentimento è mutuo. Credo che sei stato fuori dal lontano con l'Oltre Bottle Axe, dando l'unico con l'unico voodoo, così che si può vivere sempre più giovane? Cosa così. Si è stato riuscita la tua cuore con i piedi di pillow talk, ho detto. Sì, sei in un'armi giddy until you're drunk with the stuff. She did happen to mention a certain prophetic dream she's been having. Did she now? Well, for once I think the Owl Witch might be right. See that bloody big black tower yonder? How could I miss it? Well, old Breigle, the medieval painter bloke, was just telling me the other day that he thought it looked remarkably like a picture he once did. Is that Peter Breigle? No, shame. It's his distant Irish cousin. Anyway, he was quite shocked though he was. It's a terrible mess that bloody thing's making. Appearing out of nowhere and tearing its way through the place like this now tomorrow. Which, given what Nettie's saying, might not be too far from the truth. Any idea what's going on in there? Nope, and I shan't be knocking on the front door to find out neither. All I say is, if there's something wicked heading this way, it'll be coming from in there. Nettie mentioned the Dark Souls. Can you tell me any more about them? I'm afraid I'll have to reply in the negative again, Michael. Suffice it to say, Nettie's told me that they're bloody powerful, well nigh indestructible, and shouldn't fall into the wrong hands. Any idea where they might be? What am I? The Dark Souls travels right now? I suppose you could try all of the ancient sacred places down amongst the Wailers and Shiverers. I just hope that none of them souls have ended up in that filthy big black tower. From what Nettie was saying, some of them already have. Which is all the more reason for me to be pushing on. Open the gates, Jaunty. Flaces to go, people to see, eh, Michael? Just open the gates, Jaunty. Did I ever tell you about the time me and Attila the Homer playing skittles with the guillotine heads of the French aristocracy? Jaunty. Alright, alright, keep your bloody hair on. Which, looking at your shining bunt, may prove to be rather difficult. Open, Sesame. And if you'd be wanting to pop an orange hat of oil, I'll still be here. It's just a shame we can't share a drop of the hard stuff together by a hard and tape foil. I don't drink. I don't drink. Ed eccoci diqui. Come di sempre abbiamo visto eva solita sequenza animata, come c'è nella psx. Vedete qua, gli spettri sono più aggressivi. Non sui confronti, piuttosto che qui della PSX. Aveteci qua. E poi non c'è subito un po' di energia. Immediatamente. Inoltre lo stanno ancora vagando. E adesso fuggiamo. C'è chi non dà aiuto per importanza. Lettri. Vedo che c'è la stanza in cui... Qua ci sono subito i gaugli. Cosa che... Cosa che ne ho sciato in una regionale, si trovano molto dopo. Ecco. Molto più forti. Sì. E poi torniamo nel nuovo in avanti. Le lette mostri sono molto più aggressivi che quelle per la PSX. Quindi cerchiamo di andare un pochino più veloce. Quale è quanto è il nuovo in avanti? Non è mai più pronto. Che è un pochino per te, eh? Che è un pochino di 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 te. 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 E di Michael? Sì. Che è un pochino di te. Che è un pochino di te... Che è un pochino di te, eh? Che è un pochino di te. Non succedeva. Bene, corriamo subito. Al posto in cui siamo stati attaccati. Qua c'è il gun. Eccolo lì. Lo ignoriamo. Perfetto. Allora, adesso possiamo arrampicarci. Abbiamo bisogno di PSX. Spacchiamo i govi. E andiamo dall'altra parte. Andiamo, corriamo, corriamo, corriamo. Fino ad arrivare al secondo punto della terra dei morti. Eccoci qua. Ora, ora, andiamo, andiamo, andiamo. Dovremmo essere già piccini. Se non sbaglio. Continuiamo, continuiamo. Come sentite, ci sono sempre i goli che ci stanno per attaccare. Ci prendiamo subito l'energia che ci spetta. Eccoci qua. Eccoci alla prima porta. Leviamo la pistola. No, aspettate, ecco qua. Ho aperto il primo portale. Su qua dovremmo trovare il libro delle profezie e il primo govi. Ecco qui. È il primo libro. Allora. Libro della profezia. Di certo non me lo metto a leggere adesso. Quindi. Questa è la nostra pistola. E il cavolo. Allora. Allora. Andiamo subito a prendere il primo govi. L'avventura. Oddio. No, l'ho mancato. Vabbè. Ero abituato ai salti chilometrici della versione PSX. Eccoci qua. Attenzione. Eccoci qua. Apriamo il tuo govi. Apriamo la prima prova. Adesso siamo più potenti nella Shadow Gun. E possiamo aprire anche la prima porta. Perfetto. Allora. Adesso. Arriverò al punto in cui c'è. Il secondo portale. Il più portale ancora non possiamo aprirlo. Ci servono due govi. Ma al momento non vado neanche avanti. Perché ci sarà il prossimo schema. Quindi. Metto a salvare. Direttamente. E vi saluto con la prossima parte di Shadow Gun. Ciao ciao.